Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io leggo per gli altri, dalla Puglia al Piemonte, l'onda lunga dei lettori e delle lettrici volontari ad alta voce. Grazie per essere qui in questa grande comunità di storie, di persone a ragionare insieme su come dare forza, dare radici, dare senso, dare motivazioni e dare futuro alla pratica della lettura ad alta voce di storie per le persone in tanti diversi contesti della vita e della società. Parleremo di scuola ma non solo, parleremo di servizio, di volontariato, parleremo di leggere nelle piazze, nei quartieri, negli ospedali, nell'RSA, nei centri giovani, nelle aziende, con lo scopo di far arrivare tante storie belle, diverse e potenti a tutte le persone e soprattutto alle persone che ne hanno più bisogno, alle persone che per vari motivi possono aver precluso l'accesso libero e democratico alle storie e ai loro effetti. Siamo tante e tanti, vedo i vostri commenti, sono contenta. Io sono Martina Evangelista, rappresento qui oggi l'Associazione Nausicaa, l'AV, lettura ad alta voce, un movimento di volontari e volontari di portata nazionale che aderiscono al motto Io leggo per gli altri. Siamo i capofila di questo progetto finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura con il primo bando ad alta voce. Nel 2020 l'ente del Ministero della Cultura ha emanato questo bando proprio centrato sulla lettura ad alta voce e chi meglio di LAV, lettura ad alta voce, poteva in qualche modo occuparsi di questa bellissima pratica. Vedo tanti nomi, sono contenta di vedere i vostri saluti e poiché parliamo di un progetto nazionale, parliamo di un'onda lunga che va dalla Puglia al Piemonte passando per il Veneto e la Toscana. Queste sono le prime quattro regioni che in questo primo viaggio di questa onda sono state coinvolte. Io sono molto curiosa di sapere da dove ci ascoltate oggi, da dove siete connessi con noi. Vedremo come questa parola connessi non riguarda solo internet ma riguarda proprio il mettere insieme i nostri pensieri e il nostro sentire. Quindi se volete scrivere in chat da dove siete appunto connessi siamo molto felici di capire dove sta arrivando quest'onda. Cosa faremo in questa piccola ora che condividiamo insieme? Ascolteremo delle storie, almeno due, e cercheremo di comprendere perché è così importante radicare la lettura ad alta voce in tutti i contesti della vita personale, della vita sociale e culturale naturalmente. E poi cercheremo di comprendere quali sono le azioni messe in campo dal progetto e quindi di cosa ciascuno può beneficiare ma anche cosa ciascuno può fare, in che modo si può ingaggiare per portare il suo piccolo grande contributo. Questa è una pillola di formazione per chi non ha potuto partecipare per vari motivi alla formazione in presenza che si è tenuta a Lecce, a Torino, a Vicenza, ad Arezzo e a Pisa e quindi naturalmente se ci fosse qualcuno che ha già partecipato agli eventi in presenza probabilmente avrà un piccolo riassunto. Intanto vedo tantissime città, vedo Lecce, Pisa, Apiterme, vedo il Veneto, Mondovì e poi ho visto Livorno e poi sicuramente me ne sono persa altre e quindi bene bene che questa onda si propaghi in tutto lo stivale, ecco vedo anche Siena e poi Bergamo, Treviso e ce ne saranno sicuramente ancora altri. Io vorrei iniziare, Matera anche, Cuneo, Manfredonia, che meraviglia, vorrei iniziare visto che parliamo un po' di punti cardinali, di dislocazione sui territori, vorrei iniziare con proprio l'inizio, anzi la prefazione di una storia che in qualche modo ce lo indica un punto cardinale perché è una storia molto bella che è stata pubblicata dal battello a vapore pochi mesi fa e di un grande autore che è Gary Paulsen e si intitola Vento del Nord. Questa storia non è stata scelta a caso, saluto anche la nostra vicepresidentessa Paola Grand che fa un passaggio veloce, ci augura buona formazione, la rivedremo nei prossimi appuntamenti e poi ne parleremo, intanto vedo Verona, vedo Genova, Bari, Porto Cesareo e ancora Lecce e dicevo inizierei con questo autore e un altro autore che si chiama Davide Morosinotto che è italiano e ha scritto la prefazione a questo bellissimo libro e non a caso questi due autori Gary Paulsen e Davide Morosinotto perché sono due grandissimi autori diversi tra loro anche per nazionalità inevitabilmente e comprenderemo insieme come la diversità nelle letture sia fondamentale per una vera democrazia delle storie e della lettura ad alta voce e poi questi due autori hanno un'altra caratteristica che ci interessa sono considerabili autori per ragazzi ma in realtà parlano a tutte le età, scrivono dei romanzi, dei racconti che parlano assolutamente agli adulti, quindi parlano davvero alle persone e anche hanno scritto alcuni racconti che in realtà possono parlare anche alle più giovani persone, quindi alle persone bambine e quindi ci ricordano questi due autori che le storie è importante che siano varie e che siano diverse e che hanno vari molteplici livelli di lettura che non hanno necessariamente una categorizzazione per età o per tema, questo ci serve quando vogliamo leggere tanto e vogliamo leggere tante storie dobbiamo andare oltre alle etichette che generalmente vengono attribuite alle storie e quindi inizierò con la prefazione a vento del nord di Gary Paulsen scritta da Davide Morosinotto, non è scelta a caso, quello che c'è scritto è già un modo di parlare del nostro progetto, preferisco farlo con le parole di due grandi autori di storie che farlo con le mie anche se naturalmente dopo cercherò di integrare. Si dice che una buona storia è l'opposto di una buona vita, tutti quanti noi ci auguriamo che il tempo che ci è concesso di passare su questa terra sia pieno di gioia e serenità, speriamo di trovare il grande amore, di essere sempre circondati da amici fidati, avere un lavoro che ci piace e che sia magari ben pagato, godere di una salute di ferro, insomma per farla breve tutti noi vorremmo vivere sempre felici e contenti. E però se ci pensate quando i protagonisti di una storia vivono felici e contenti la fiaba finisce ed è una fortuna che sia così altrimenti sarebbe una noia micidiale. Quando apriamo un libro o guardiamo un film ci aspettiamo che ai protagonisti capitino disgrazie di ogni genere, avventure e traversie, ostacoli che sembrano insormontabili ma vanno affrontati in qualche modo. Per uno strano meccanismo forse un po' egoista eppure molto umano tutto ciò che non vorremmo mai vivere sulla nostra pelle ci affascina irresistibilmente se succede a qualcun altro. E dunque ecco che il romanzo che state per leggere comincia con una disgrazia di quelle che non vorreste mai capitassero a voi. In un piccolo villaggio di pescatori, in un'epoca lontana che potrebbe essere l'altro ieri, in un posto lontano che potrebbe essere in fondo abbastanza vicino, si scatena una malattia senza nome e i pescatori iniziano a morire. Se non che uno di loro acchiappa due bambini e li mette su una canoa, dice al più grande vai a nord e non guardarti indietro e quello, Leif, parte. Poi anche il piccoletto si ammala, Leif rimane solo. Che angoscia vero e non è nemmeno uno spoiler dato che capita nelle primissime pagine del libro. Poi però succede qualcosa e prima di arrivarci lasciatemi un momento per presentarvi, se non lo conoscete ancora, l'autore di questo libro, cioè Gary Paulsen. Se è vero che una buona vita è una vita felice, allora Gary, purtroppo per lui, ne ha avuta una davvero cattiva. Nato quando il mondo precipitava nella seconda guerra mondiale, è cresciuto senza il padre, ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti, con una madre alcolista e in condizioni di povertà estrema tra l'America e le Filippine. A un certo punto in Minnesota il giovane Gary arrivò ad avventurarsi nei boschi armato di arco e frecce perché la caccia era l'unico modo di mettere qualcosa nello stomaco. Una vita terribile e un'ottima storia quindi che Gary ha infatti raccontato in diversi libri autobiografici e in romanzi che sono probabilmente tra le migliori letture che possano mai capitarvi sotto mano. D'altronde, vivere molte avventure aiuta a scriverne. E non è un caso quindi che i libri di Gary, e fidatevi, sono tanti e davvero straordinari. Spesso raccontino storie di natura e sopravvivenza, a partire da quello che è forse il suo lavoro più famoso nelle terre selvagge, storia di un ragazzo che sopravvive a un incidente aereo e si ritrova in un'immensa foresta. La radio rotta, nessuno che può aiutarlo e deve imparare in qualche modo a cavarsela contando sulle proprie forze. Ma adesso torniamo a lei, il nostro povero protagonista in canoa che al principio del libro si ritrova solo e diretto a nord. All'inizio la sua avventura mi ha raccordato quella di un videogioco indie, cioè indipendente, bellissimo, uscito qualche anno fa sulle principali piattaforme. The Flaming the Flute, storia di una ragazzina e del suo cane che dopo una terribile inondazione si ritrova a scendere un fiume su una zattera e deve fermarsi sulle isole che incontra lungo il cammino per cercare cibo, acqua, medicinali, per sopravvivere in un mondo stile in cui la morte ti aspetta dietro ogni angolo. Leif sembra giocare proprio a una partita più primitiva e selvaggia di The Flaming the Flute. Deve mangiare, deve dormire, deve ripararsi dal freddo, proteggersi dagli orsi che sono tanto più forti di lui. Ma... ma Leif non è un ragazzo normale. Gary Paulsen non è uno scrittore normale e se proprio vogliamo continuare a fare paragoni con i videogiochi, a un certo punto The Flaming the Flute sparisce e arriva un altro titolo capolavoro di qualche anno fa. Journey. Leif diventa tutt'uno con l'ambiente, entra in armonia con la natura che lo circonda e comincia a qualcos'altro di diverso, più grande, così grande che a volte è semplicemente immenso, che ti riempie gli occhi e il cuore. In inglese esistono due parole diverse per indicare la solitudine. Loneliness, che indica un'emozione negativa, insomma il sentirsi soli, avvertire la mancanza struggente delle altre persone. E solitude, che invece ha un'accezione positiva perché significa trovare il proprio equilibrio dentro di sé, raggiungere pace ed equilibrio nel silenzio. Il viaggio di Leif è proprio un viaggio dalla loneliness verso la solitude. E quando succedono certe cose, che non vi racconto perché questo sì che sarebbe uno spoiler, ebbene, quando succedono, voi che leggete, smettete di trovarvi nel salotto di casa vostra o sotto le coperte o su un autobus che vi porta a scuola e arrivate da un'altra parte, lontanissimo, tra i ghiacci e il mare scuro e le isole e le insenature e vi riempite di pensieri e di incanto e di meraviglia. Capite che in fondo quello che dicevo all'inizio di queste pagine non è poi così vero. Una vita felice e contenta non sarebbe poi tanto buona perché non ci insegnerebbe niente, non ci permetterebbe di migliorare. Invece vale la pena di mettersi sempre in viaggio, combattere, sperimentare, imparare, soffrire anche e arrivare a scoprire forse un giorno che cosa si nasconde davvero a nord. Davide Morosinotto, la prefazione di Vento del Nord di Gary Paulsen. Grazie ancora per l'ascolto e buonasera a tutte e a tutti. Vedo che siete, siamo tanti. Se vi va potete scrivere in chat come è stato per voi ascoltare questo pezzettino di storia che Morosinotto mette proprio all'introduzione di questo viaggio, di questo ragazzo verso il nord. Se vi va di dire come è stato ascoltare, a cosa vi ha fatto pensare, se secondo voi c'è un nesso tra le parole di Morosinotto sul viaggio, sull'equilibrio, sulla felicità, sul senso della vita e quello di cui parleremo noi, l'onda lunga delle lettrici e dei lettori ad alta voce. Quindi se avete voglia di commentare in chat io sono molto contenta. Intanto ringrazio la mia collega Silvia Daveri, Associazione Nausicaa Love, che è qui con me alla regia e che si occupa della costruzione dei materiali, della comunicazione, del coordinamento e delle azioni di questo progetto e di altri. E iniziamo anche a farci guidare dalle slide. Vi dico già che tutte le slide sono già presenti sul sito di Associazione Nausicaa, quindi non vi preoccupate di dover prendere appunti o qualcosa del genere. Allora Silvia, le slide le vediamo forse? Sì, perfetto. Grazie mille. Allora sono io poi che le scorro, quindi abbiamo ascoltato insieme una storia e questo ci ricorda che prima di tutto leggere per gli altri è ascoltarci e ascoltare insieme. Le storie sono al centro, sono ciò che è ciò che conta, ciò che dà senso, non è la performance del lettore. Avete visto io ho anche incespicato una o due volte, no? Perché non era una lettura più di tanto preparata, non era una lettura più di tanto attoriale appunto. Io mi sono affidata alla storia, no? Come quando con una canoa ci si mette in viaggio cavalcando un'onda, un'onda lunga, ci si affida in qualche modo a un flusso, a un'energia e io questo ho fatto con le parole di Davide Morosinotto su Gary Paulsen e quindi al centro sta la storia e al centro sta una comunità che ascolta, socializza e interpreta una storia. È un po' quello che anche se siamo in chat state facendo voi, no? Avete detto che vi ha fatto pensare alla vostra vita, che siete sentiti eh rapiti in qualche modo, no? Come ci dice anche Davide Morosinotto, non siamo più sul nostro divano, non siamo più su un nostro ehm su un autobus, ma siamo altrove, le storie ci portano altrove e questo altrove è un altrove che ha a che fare con la nostra solitude, quindi col nostro equilibrio interiore, con la nostra vita, ma anche un altrove che fortunatamente ci fa fare delle esperienze che vanno anche oltre le nostre esperienze concretamente e realmente vissute. Ci porta a viaggiare in paesaggi eh in tempi che noi probabilmente fisicamente non abbiamo conosciuto e chissà, magari non conosceremo mai, no? Qualcuno dice mi sento in una canoa adesso, anch'io sto attraversando la mia solitude, qualcuno dice questo è il racconto della storia di ognuno di noi, no? E quindi questa metafora del viaggio eh è molto importante per noi perché eh ci ricorda il processo di costruzione di una comunità narrativa che eh che insieme stiamo eh stabilizzando eh ma allo stesso tempo ci ricorda anche il percorso che le persone che crescono dentro alle storie grazie al nostro dono, grazie al nostro servizio possono compiere, no? Perché nel momento in cui noi regaliamo delle storie agli altri, soprattutto a chi non ha avuto la possibilità, la la fortuna di 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 accedervi prima eh noi regaliamo a queste persone la possibilità di andare altrove, la possibilità di viaggiare laddove non possono viaggiare, la possibilità di scoprirsi, di sentirsi eh la possibilità di evadere, talvolta anche la possibilità di scappare perché a volte c'è anche bisogno di scappare e e poi c'è la possibilità di decentrarsi come dice Lucia, la possibilità di potenziare le proprie competenze di ascolto e quindi di comprensione e di comprensione di sé, degli altri, delle cose che ci succedono intorno, l'accesso alle parole, quante parole ci sono nelle storie, quante parole ci sono nelle storie scritte che normalmente nel linguaggio verbale noi non usiamo e quindi eh questo è quello che noi facciamo eh la nostra è proprio una canoa eh che che naviga su questa onda per portare eh le storie a tutte, a tutti e a ciascuno. Ehm. Quelli sono quindi gli obiettivi dell'onda lunga? Gli obiettivi sono quelli che abbiamo detto, cioè radicare l'abitudine alla lettura ad alta voce di storie per gli altri in tutti i contesti della vita, quindi nella vita personale, nella vita formativa, nei percorsi di istruzione, nella vita professionale e nella vita civile. Eh ci sono varie azioni che sostengono eh questa costruzione di una rete che sarà una rete prima locale, poi regionale, poi nazionale e che è una rete orientata al futuro perché chiaramente l'onda lunga non si fermerà dentro i confini del progetto. L'abbiamo chiamata l'onda perché vuole andare oltre, vuole andare altrove, è lei che ci porterà, è lei che ci guiderà, ma allo stesso tempo lei, cioè l'onda siamo noi, siamo tutte le nostre forze, tutte le nostre energie, tutte le nostre diversità, tutte le nostre volontà, tutte le nostre storie eh che danno eh ampiezza a questa a questo flusso, a questa energia. Quindi ci sono varie azioni che vengono fatte per sostenere sia i soggetti che si attivano dentro l'onda che i beneficiari. In alcuni casi i beneficiari e i soggetti coincidono, no? Come voi in questo momento siete beneficiari di una formazione ma magari a vostra volta diventerete anche attori di qualche azione legata alla lettura ad alta voce. In altri casi i beneficiari sono proprio le persone che hanno bisogno di avere un accesso alle storie. Le bambine, i bambini, le ragazze, i ragazzi, ma tutte anche le persone che si trovano in una situazione di disagio di qualsiasi tipo, quindi un disagio fisico, cognitivo, economico, socio-culturale, affettivo. Quindi la formazione, eh una formazione seminariale ma anche una formazione laboratoriale, la distribuzione di libri ma soprattutto anche la condivisione di bibliografie, bibliografie anche un po' per target, no? No, noi abbiamo detto che le storie non devono essere etichettate, ma sappiamo anche che in alcuni casi ci sono storie che per iniziare sono più adatte a un certo gruppo di persone eh piuttosto che a un altro e quindi sul sito dell'associazione Nausicaa troverete in progress, che sono in corso di costruzione, varie bibliografie, quindi varie proposte di storie, eh per i vari target di persone a cui vi potreste trovare a leggere ad alta voce. E poi eh stiamo organizzando, c'è già un calendario di tavoli di lavoro online eh animati e composti da vari attori ehm a livello nazionale per rafforzare proprio la rete legata alla lettura ad alta voce. E poi eh vi proporremo, vi stiamo già proponendo di iniziare se siete insegnanti per esempio a leggere ad alta voce in classe ma a farlo nella cornice dell'onda lunga, quindi a farlo come un training, come un allenamento, come qualcosa che ci vuol far crescere, ci vuol dar forza. Eh ovviamente le letture pubbliche perché quelle servono per far conoscere a chi non incontreremmo negli altri contesti la forza, la bellezza delle storie, servono ad aprire le porte di un libro. E poi i servizi di volontariato, quindi l'idea proprio di prestare un pochino del proprio tempo, qualsiasi sia la professione che si fa ehm per portare delle storie agli altri. Servizi di volontariato che in qualche modo riguarderanno anche i nostri beneficiari più giovani, cioè le ragazze e i ragazzi, i preadolescenti e gli adolescenti perché all'interno dei loro percorsi di istruzione proporremo agli insegnanti che ci lavorano insieme di sperimentare delle azioni di service learning, cioè dei piccoli percorsi di apprendimento centrati però sul servizio. Cioè io mentre imparo qualcosa, mentre sviluppo una competenza, mentre potenzio un'abilità, io sto facendo anche qualcosa che ha a che fare con la mia cittadinanza attiva, sto facendo un servizio e quindi imparo facendo qualcosa di utile per gli altri e ovviamente questo con la lettura ad alta voce perché questo è uno strumento agile, è uno strumento green, è uno strumento davvero potente alla portata di tutte e tutti. Vedremo insieme che anche se è uno strumento agile, anche se è uno strumento potente, abbiamo bisogno di alcuni strumenti, abbiamo bisogno di un metodo, abbiamo bisogno di una cornice, ma soprattutto abbiamo bisogno di una comunità perché è vero che la lettura è potente, è vero che un libro è potente, è vero che una volontà è potente, ma una sola non può fare la differenza. Tante insieme diverse possono davvero fare la differenza, possono fare il futuro del nostro stivale. Vedete che i soggetti coinvolti già nelle quattro regioni fanno riferimento a tante categorie diverse, ci sono comuni, biblioteche, reti bibliotecarie, scuole, librerie, associazioni, cooperative, fondazioni, festival, case editrici, agenzie formative e naturalmente i nostri circoli love. L'occasione mi è cara per salutare tutte le volontarie e volontari all'ascolto e ovviamente tutti i loro circoli perché quello che fate è così prezioso che non possiamo che esservi grati ogni giorno per le migliaia di ore di letture di storie che fate circolare in giro per il nostro stivale. E quindi dicevamo che, come avete detto anche voi, abbiamo bisogno di non essere soli con questo strumento potente in mano. Ecco perché c'è l'onda lunga, abbiamo bisogno di un metodo, ne parleremo e siamo già una grandissima e colorata comunità. Perché appunto leggere ad alta voce con questo spirito non è qualcosa di letterario, non è qualcosa che mette al centro per esempio solo la voce. Troppo spesso si pensa alla lettura come letteratura o si pensa al lettore come qualcuno dotato di una magica voce che in qualche modo se non ci fosse questa voce non ci sarebbe la lettura. Non è questo lo spirito di io leggo per gli altri, no? Lo spirito è di avere sempre tante storie. Ecco perché serve una comunità. Per quante storie ciascuno di noi conosca non saranno mai abbastanza per parlare a tutti e a tutti. Quindi insieme possiamo moltiplicare le nostre storie. Poi ciascuno di noi sviluppa i propri punti di vista su una stessa storia e quindi connettendo, socializzando, mettendo insieme i punti di vista sulle diverse storie noi creiamo una zona di lettura. Una zona di lettura che non è solo uno spazio fisico, è uno spazio di senso. È uno spazio di senso che si centra sulla cultura del libro e che si centra sulla socializzazione dei vissuti, delle domande, dei punti di vista, dei sentimenti che si generano in un gruppo che ascolta insieme una storia. Io dico un pochino di cose, le dico un po' velocemente per il tempo che abbiamo ma già vi rassicuro ci saranno altri appuntamenti, ci sarà occasione di continuare a sentirci. Ma voi se avete qualche dubbio o commento non esitate a chiedere in chat. Ho detto che la voce non è al centro, però voglio spiegarmi meglio. È naturale che il suono che la nostra corporeità regala a un libro è qualcosa di unico ed è il vero dono della lettura condivisa perché altrimenti saremmo degli audiolibri. Quindi la corporeità, la dimensione 3D della lettrice e del lettore che si muove in un gruppo con degli oggetti libro in mano e che dà loro suono e che questo suono lo accorda anche al battito del cuore di quel gruppo in quel momento, ma anche al battito del cuore di se stessa in quel momento. La stessa storia letta dalla stessa persona in giorni diversi magari suonerà un po' diversamente, avrà un respiro diverso, un ritmo diverso, un colore diverso. Questo è sbagliato? No, questo è vita. Questo è autentico. Così come Davide Morosinotto ci dice un po' tra le righe, usciamo dall'idea del vissero felici e contenti, ma entriamo nell'idea che siamo parte di un viaggio, di un percorso. Così siamo noi quando leggiamo per gli altri. Cresciamo ogni giorno con le storie che regaliamo, con le storie che ascoltiamo, anche perché quando leggiamo per gli altri noi stiamo leggendo anche per noi, stiamo leggendo due volte. E soprattutto, come ci dice Lucia, ricordiamoci, a volte ci chiedono, diteci come si fa a diventare fantastici lettori ad altavoce. Ecco, uso le parole di Lucia. Il trucco per diventare dei fantastici lettori ad altavoce non è poi più di tanto allenare la voce. Quello verrà da sé con la pratica, con il training. Più leggerete e più conoscerete il vostro strumento vocale e comincerete con consapevolezza a giocarci, a giocarci in base anche a quello che è il testo, quindi in base un po' al ritmo, ai personaggi, ma per diventare dei bravi lettori ad altavoce bisogna essere dei bravi ascoltatori. Ascoltatori di sé, del proprio stare, della propria solitude, intesa come equilibrio interiore, intesa anche come silenzio, perché prima di donare una storia c'è sempre un momento di silenzio, in cui ci ricordiamo perché lo stiamo facendo. E poi intesa come ascolto e quindi affidamento alle storie che portiamo, che regaliamo, ma soprattutto, come dice Lucia, ascolto delle persone che sono con noi, delle persone per le quali leggiamo, dei loro respiri, dei loro sguardi, dei loro bisogni, dei loro gusti. A volte si può anche interrompere un libro se vediamo che i loro sguardi, insomma, non sono così rapiti, come ha detto qualcuno di voi. A questo punto io vorrei leggervi un brano, un pezzettino, della storia di cui vi ho tanto parlato, quindi di Vento del Nord di Gary Paulsen. Avete un po' capito l'antefatto? Abbiamo questo ragazzo, Leif, che si trova solo su una canoa con un'indicazione, viaggia verso il Nord. E a un certo punto del romanzo, verso la metà, si trova a un punto del suo viaggio. E io vi voglio leggere queste due pagine che al solito non sono state scelte a caso, sono state scelte per continuare a parlare dell'onda lunga dei lettori ad alta voce. Adesso invece era solo, meravigliosamente, stupendamente solo. E sebbene l'inizio fosse stato un poco complicato, liberarsi di una sgradita compagnia, gli orsi, accendere il fuoco, costruirsi un riparo, ben presto cominciò a piacergli, come pure ad amare la libertà che ne conseguiva. Era diventato abilissimo a tirare la canoa in secco, a capovolgerla per farne un riparo spiovente, a trovare il vecchio nido di un topo o di uno scoiattolo da usare come esca per accendere la prima scintilla, a ripararla e accudirla finché non diventava una fiamma, a mettere su una pentola di zuppa di salmone essiccato ed erba e, nell'attesa che fosse pronta ad agiarsi contro una roccia e dedicarsi alla sua storia o a costruire una fiocina o... semplicemente essere. Sembrava che il fuori fosse diventato il suo dentro. Il suo posto nella vita era passato dal piccolo tugurio buio in una nave mezza marcia a tutto di tutto. La foresta, il cielo, l'acqua, tutto quello era diventato la sua casa e, seduto ad asciugarsi davanti al fuoco nell'acquerugiola della foschia, si domandò, nel nome di Odino, come avrebbe fatto a incidere tutte quelle cose su una tavoletta. Magari certe cose andavano vissute e basta. E così fece. Proseguì verso nord, passando da un'insenatura all'altra, facendo tappa in isole libere da orsi, finché un pomeriggio o una mattina o una sera ormai nella sua vita non faceva più differenza. Mettendosi a pagaiare dopo essere uscito da un'insenatura, notò, percepì, che c'era qualcosa di diverso nel modo in cui si muoveva l'acqua sotto la canoa. Erano le correnti di marea, le solite, quelle che aveva già cavalcato o che lo avevano messo in una situazione di stallo o dalle quali si era lasciato trasportare, ma non erano uguali a quelle di sempre. Erano governate da un moto ondoso, con un ritmo delicato completamente estraneo alle correnti di marea. L'acqua. Aveva una vita nuova che fino a quel momento Leif non aveva mai percepito sotto la canoa e che per certi versi gli sembrava familiare. Era come se la conoscesse già, come se conoscesse quel moto ondoso, il movimento dell'acqua, ed ebbe un'illuminazione. Era l'onda lunga, proveniente dal mare aperto. Dopo tutti gli anni trascorsi sulle navi, non gli era nuova. L'aveva sentita per tutta la vita, anche se mai in spazi ridotti come quelli, intrappolata nelle insenature fra le isole. L'onda che si formava e deformava. Il battito cardiaco dell'oceano, così l'aveva chiamato Carlo il Vecchio. Senti il suo battito, gli aveva detto un giorno, seduto su un cumulo di scime marcescenti a fumare disgustoso tabacco nero con una piccola pipa perfettamente incastrata nello spazio che aveva fra i denti. È il battito del mare che gira intorno al mondo. Si può sentire un'onda lunga iniziata da giorni o da settimane, molto lontano, che non allenta, ma prende forza man mano che avanza. E conoscendo le onde lunghe, ricordandosele, Leif notò che il braccio di mare che separava l'isola grande dalla terra ferma diventava sempre più largo a ogni colpo di pagaia. Più tardi poi vide il sole brillare sul mare aperto, vide le onde lunghe avanzare. Grazie di aver ascoltato anche questo brano e penso che non ci sia bisogno di condividere perché ho scelto proprio questo brano. Parla di noi, parla di quello che stiamo facendo, parla della nostra storia perché quello che noi abbiamo costruito oggi è qualcosa che viene da lontano. Per esempio il Movimento Nazionale Love ha già quasi 14 anni e così come ciascuno di voi che a vario titolo è stato portato qua oggi ha sicuramente una storia che viene da molto lontano. Ma soprattutto è qualcosa che mira a un futuro, mira a una progressione, mira a non fermarsi, mira ad accrescersi e ad andare oltre. Quindi sono contenta se volete dirmi come è stato ascoltare questo pezzo per voi, a cosa vi ha fatto pensare anche in relazione a quello di cui stiamo parlando oggi. E poi c'è una cosa molto importante secondo me che viene detto a un certo punto che lui è passato da vivere in un tugurio buio a vivere nel tutto di tutto, la foresta, il cielo, l'acqua. Tutto questo è diventato la sua casa. Ecco questo mi fa pensare all'effetto che ha la lettura quando arriva alle persone. Le persone non hanno più una sola casa ma hanno una casa che è fatta di tutto di tutto, di tutte le storie che hanno ascoltato, di tutte le storie che noi gli abbiamo regalato. Però ecco perché è così importante che ne arrivino tante di storie, che ne arrivino di varie e di diverse perché devono essere storie di foresta, storie di cielo, storie di acqua, storie di tutto e di tutti per dare davvero una casa forte alla comunità che costruiamo. Quindi le azioni del nostro progetto per costruire questa casa di tutto e di tutti le abbiamo un pochino viste e allora mi concentro velocemente sui gruppi di lavoro tematici. Sono intesi proprio come una sorta di salotto o se volete di squadra un po' più piccola di quella di oggi. Oggi siamo tanti, siamo tutti e abbiamo insomma anche percorsi diversi e non possiamo interagire più di tanto. Invece i gruppi di lavoro tematici utilizzeranno Zoom, quindi una piattaforma dove si può interagire e le persone, quindi anche voi, sceglieranno a quale gruppo partecipare in base alle proprie propensioni, ai propri bisogni, alle proprie attitudini, alla propria anche professione. Quindi non come oggi che stiamo tutti parlando della stessa cosa, ma in questi gruppi di lavoro tematici ci si concentrerà su alcune, diciamo così, sottoazioni, su alcuni contesti. E quindi per esempio per chi in qualche modo insegna alle scuole secondarie di secondo grado, o lavora nelle biblioteche, nei comuni o in alcune associazioni, come creare dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, quindi i PCTO, di cui forse qualcuno ha sentito parlare, sono conosciuti anche come ex alternanza scuola lavoro, per gruppi di ragazzi e ragazzi, quindi di studenti che in qualche modo devono fare questi percorsi e possono farli utilizzando la lettura ad altavoce. Quindi per esempio una classe di studenti che va a leggere in una biblioteca o in un'associazione, ecco, quindi qui si ragionerà di come utilizzare la potenza della didattica trasversale della lettura ad altavoce anche per organizzare questi percorsi di sviluppo di competenze trasversali e orientamento. Per chi invece è interessato a facilitare il protagonismo dei preadolescenti e adolescenti attraverso la lettura ad altavoce, quindi ragazzi che in qualche modo dopo un percorso, dopo essere stati esposti alla lettura ad altavoce da parte degli adulti, possano diventare lettori a loro volta, ci sarà questo gruppo facilitare la nascita di un circolo teen love. Per chi invece si sente un po' più ludico, è interessato alla lettura in una versione un pochino più pop. Love ha una web radio, Radio Love, sicuramente sono qui all'ascolto le volontarie che in qualche modo prestano servizio per la radio e le ringraziamo e quindi ci sarà un tavolo dedicato a questo, come si gioca con la lettura ad altavoce alla radio. Per chi si vuole concentrare sullo spirito di servizio, sulla volontà che sta dietro al volontariato legato alla lettura ad altavoce, avremo un gruppo che si occuperà proprio del volontariato Love. E per chi invece è interessato proprio a costruire questa casa, a alimentare questa onda, avremo un gruppo dedicato proprio al potenziamento delle reti locali e poi regionali per la lettura. Ovviamente che siano reti operative, non solo qualcosa di scritto, ma qualcosa che costruisca questa casa di tutto e di tutti insieme. E poi chiaramente se vogliamo leggere tanto e se vogliamo leggere in tanti contesti diversi, abbiamo sempre bisogno di conoscere nuove storie, sempre, non bastano mai. E quindi abbiamo organizzato questo calendario i mercoledì bibliografici. Dal 16 novembre al 18 gennaio, ogni mercoledì all'ora dell'aperitivo con la tisana, in streaming, in diretta su questo canale YouTube di Love, troverete alcuni esperti, da Alfonso Cuccurullo a Ermerinda De Carlo, Ilaria Tagliaferri, Giusy Marchetta e Fabio Geda, che vi racconteranno dieci libri per diverse fasce d'età. Quindi vedete le storie da 0 a 11 anni, per chi legge in pediatria, a scuola, nei doposcuola, il green book, per chi è interessato all'ecologia, i libri Il secondo momento migliore, per chi legge nell'RSA, nei centri di urni, in ospedale, per chi pensa che non è mai troppo tardi, i libri per i teen, per chi lavora a scuola o per chi in qualche modo lavora con gli adolescenti, e poi le storie che ci ricordano che c'è sempre una seconda opportunità, per chi legge ad alta voce in carcere, nei centri di accoglienza, nei luoghi densi di complessità. Siamo già tantissimi, sono già 3.000 le persone raggiunte da questa onda, ma insomma insieme a voi vogliamo potenziarle, vogliamo attivare tanti training in classe di lettura, vogliamo creare nuovi lettori, nuovi volontari, nuovi giovani lettori e vogliamo giocare con la lettura, vogliamo regalare storie a tante bambine e a tanti bambini. Sul sito, la mia collega Silvia sta già mettendo tutti i link, trovate una serie di materiali, di strumenti, di kit proprio per inquadrare quelle che magari sono già attività che voi state facendo, però per inquadrarle in una cornice, in un metodo, nella stessa casa, per metterle sotto lo stesso tetto. Io non mi dilungo adesso, ma insomma ci sono anche dei gruppi Facebook, un gruppo Facebook scusate, dove potersi confrontare, mettere in rete esperienze, storie, esprimere dubbi, bisogni e a livello regionale anche dei gruppi WhatsApp animati dalle nostre splendide tutor regionali che su Elisa sta Emanuela e Paola. Ecco, scusate. Quindi naturalmente stare in quest'onda è un'occasione per crescere insieme e per dare mura più forti anche alle case che ciascuno di voi magari ha già costruito attorno alle storie e alla lettura. Mi piace sempre condividere la radice del verbo leggere che ha queste tre sfumature di significato, raccogliere, scegliere e dire. Quindi proprio l'idea che prima di tutto si raccoglie un'opportunità, si coglie un'opportunità, si colgono le storie, si coglie una consapevolezza, una volontà, poi si sceglie quale storia, quali storie, si sceglie con volontà di diventare lettrici lettori per gli altri e quindi di dire, di evocare, di dare voce alle storie. Fate qualche domanda un po' più tecnica, come ci si scrive? Io su questo vi lascio alla collega Silvia che con l'account lettura ad alta voce sta rispondendo in chat, altrimenti rischierei di non fare in tempo a dirvi tutto. Vado un po' veloce avanti perché vedo il tempo che scorre e quindi ricordiamoci un attimo, anche se ce lo stiamo già dicendo, cos'è la lettura? Per chi si può leggere? Chi legge? Come, dove e quando si può leggere? Ma anche perché è bello e importante cosa leggere e quali sono i valori, i presupposti di chi legge ad alta voce. Quindi la lettura, ce lo stiamo dicendo, è una pratica. È una pratica che si alimenta ogni giorno, non si nasce lettori e non si diventa nemmeno da un giorno all'altro, si cresce, si cresce. Quando si legge per gli altri si legge due volte per sé e per chi ci sta ascoltando. Quindi è una pratica di civiltà, di cittadinanza, di democrazia. Per chi lavora a scuola è una didattica a tutti gli effetti, in sé per sé, che ha collegamenti col curriculum di tutte le discipline, perché potenzia dimensioni cognitive, perché potenzia il pensiero critico, il problem solving, il lessico, la comprensione del testo, ma la comprensione anche di sé, del punto di vista degli altri, delle proprie emozioni, aiuta a dare un nome a quello che si prova. E poi perché nelle storie c'è tutto. Nelle storie c'è la scienza, c'è la geografia, c'è la musica, c'è la storia, ci sono gli umani, c'è il movimento. Quando noi ascoltiamo una storia, noi siamo attivi, noi siamo vivi. Ascoltare una storia è un'esperienza autentica, è un'esperienza vicaria, ci dice Michel Petit. Ci fa stare invece di, siamo sul divano ma siamo a sentire il battito dell'oceano. Quindi perché leggere ad alta voce? Perché si sviluppano competenze, sia per chi legge che per chi ascolta. E poi perché è un modo semplice, relativamente, non occorre avere una laurea in qualcosa per fare un volontariato culturale e quindi in qualche modo per creare benessere, per creare piacere e quindi per dotarci di un antidoto a quella che è un po' una crisi che ci può essere a livello economico e se volete anche così morale. Perché è così importante leggere ad alta voce alle bambine e bambini, alle ragazze e ragazzi, ma poi a tutte, a tutti, a tutte le persone? Perché a qualsiasi età c'è sempre un divario tra la competenza attiva e quella passiva nella lettura. Quindi leggere un testo in autonomia è un'attività cognitiva più complessa e faticosa del suo ascolto e quindi la lettura ad alta voce rende accessibili all'ascoltatore dei testi che nella lettura autonoma richiederebbero una competenza superiore a quella posseduta. Quindi vi stiamo dicendo che le persone sono perfettamente in grado di ascoltare ciò che voi regalate loro, non è detto che sarebbero in grado per vari motivi di leggerlo in autonomia. Questo succede per i bambini nelle prime fasi di scolarità, ma può succedere anche per persone che hanno vari tipi di difficoltà. E poi, l'abbiamo detto, nella zona di lettura la condivisione consente di moltiplicare i punti di vista su una stessa storia e quindi aggiunge un grande valore. È un modo per tessere legami, per sviluppare un'immaginazione. Siamo stati tutti oggi un pochino nell'azzurro del mare, ne sono sicura, anche se siamo davanti a un computer. Quindi ci fa stare bene, migliora anche la nostra salute fisica, migliora la nostra aspettativa di vita. Come avete detto voi, è coinvolgente e quindi ci aiuta a svilupparci come umani più equilibrati, a centrarci su una solitude che non sia una loneliness. Quindi, come leggere, l'abbiamo detto, è chiaro che dare la nostra espressività a una lettura è importante, ma non c'è una ricetta. Ci si affida una storia e ci si affida al qui e ora della zona di lettura che si è creata oggi. E quindi con un contatto diretto con chi ci sta ascoltando e adeguando anche i tempi, i ritmi e i volumi a quello che ci arriva dalle persone che stanno abitando la nostra zona di lettura. Quindi capendo se magari è il caso di alzare un pochino il volume o addirittura abbassarlo. A volte funziona di più sussurrare che urlare. Quindi si può leggere ovunque, si può leggere ovunque ricordandosi che è sempre importante coltivare la libertà di scelta, la scelta di ascoltare, di non ascoltare, la scelta di smettere un libro, la scelta di avere più libri a disposizione tra cui un pochino esplorare. Non è mai troppo tardi per leggere per qualcuno e non è nemmeno troppo presto. Si può fare molto presto, si può fare per tutta la vita sia di leggere che di ascoltare e non bisogna preoccuparsi di sbagliare. Se noi ci collochiamo in una dimensione temporale lunga, e quindi se siamo su un'onda, se oggi abbiamo sbagliato un libro, se oggi abbiamo sbagliato una lettura, non è un problema, perché noi siamo sicuri che avremo un altro appuntamento. Quello che noi stiamo cercando di costruire con l'onda è la sicurezza di un appuntamento. Dice Rupi Kaur, una poeta indiana, intitola alcuni suoi versi l'appuntamento perfetto. Niente è più sicuro del suono di te che mi leggi qualcosa. Ecco, questo siamo noi. Siamo il suono di te che mi leggi qualcosa, un appuntamento perfetto, qualcosa che ci sarà anche domani e dopo domani e continuerà. Io ci sarò e lo farò per te, lo farò con te. E siamo insieme proprio perché se non potrò esserci io domani ci sarà Maria Benedetta, ci sarà Stefania, ci sarà Rossana, Amalia, Francesca, Mary e Alessandro. E quindi ovviamente senza giudizio, anche a scuola, quando si condividono le storie, non è un compito. Non c'è la risposta giusta, la risposta sbagliata. C'è la storia e il modo in cui ciascuno di noi la vive. E quindi è un atto di cura. È un atto di cura per noi, è un atto di cura per gli altri, ma è un atto di cura anche per chi le ha scritte le storie, perché noi proprio ci affidiamo e facciamo viaggiare quel testo. Chi legge, chiunque ne abbia la volontà, chiunque abbia voglia di fare questo dono, di fare questo servizio, quindi adulti, adulti che diventano adulti significativi, insegnanti, volontari, educatori, genitori, nonni, zii, babysitter, non ci sono limiti. E ovviamente, come abbiamo detto, lo possono fare anche le ragazze e i ragazzi, ma c'è una condizione preferibile, che è quella che queste ragazze e i ragazzi, prima di diventare lettori per gli altri a loro volta, siano stati esposti in maniera intensiva all'ascolto di storie. Quindi diventa proprio uno scambio, uno scambio di un dono che è stato ricevuto. Sarebbe preferibile non ricorrere troppo questo tempo, troppo spesso ci soffermiamo anche con i ragazzi sulla performance, vai e leggi. Ricordiamoci, per diventare lettori bisogna prima diventare ascoltatori. Per chi si può leggere? Si può leggere per tutti, per tutti, purché chi è con noi abbia la possibilità e la volontà di ascoltare. Quindi ricordiamoci che la lettura non può essere imposta dall'alto e che tutti hanno diritto alle storie. Ecco, direi che questo ci può abbastare. Quindi quali sono i presupposti per affacciarsi all'onda? I valori che animano questa volontà? La democrazia, la relazione, lo scambio, il dono, l'antropologia positiva, cioè l'idea che tutti dentro di sé hanno le capacità, le possibilità per crescere dentro una storia. Magari non hanno avuto prima la possibilità, ma quelle capacità le hanno dentro di sé. Noi possiamo aiutare a tirarle fuori, aiutare a svilupparle aprendo le porte dei libri, le porte delle storie e della lettura. E poi i presupposti sono proprio la fiducia nelle storie come patrimonio di esperienze, emozioni, sentimenti, scenari di cui le persone hanno bisogno, hanno bisogno per avere una casa più grande, una casa di tutto e di tutti, quindi per comprendersi, comprendere il mondo, allargare gli orizzonti, costruire poi a un certo punto finalmente la propria casa, la propria identità e sentirsi parte di una comunità. Ci sono esperienze, ricerche, evidenze sulla lettura ad alta voce, voi lo sapete e sicuramente potrete approfondire anche con i materiali sul nostro sito, l'occasione mi è cara per salutare il professor Federico Batini che è il fondatore di LAV e che partecipa anche a questo progetto che oggi avrebbe voluto essere qua ma è impegnato all'Università di Perugia dove insegna per un importante convegno sulla ricerca educativa e questa per esempio è una pagina tratta da una delle sue pubblicazioni sulla lettura che ci ricorda grazie a esperienze di ricerca evidence-based tutte quelle che sono le aree sviluppate dalla lettura ad alta voce quindi le life skills le competenze di base l'alfabetizzazione le funzioni cognitive le connessioni neurali quindi proprio la lettura è un allenamento fisico anche per il cervello aumentano proprio le reti le connessioni e poi l'empatia le abilità relazionali il decentramento la mentalizzazione quindi uscire da sé per rappresentarsi gli stati mentali degli altri e quindi comprendere punti di vista differenti la capacità di riflettere riflettere in senso proprio letterale quindi di vedersi dentro una storia e quindi di orientarsi pensiamo ancora alla nostra canoa e quindi naturalmente una maggiore percezione di controllo e di agentività su quello che ci accade e quindi un repertorio anche di modelli non stereotipati per costruirsi una identità che sia originale dunque l'empowerment essere consapevoli di sé se inteso come quella solitud bella di cui stiamo parlando centrata equilibrata e quindi avere un controllo sulle proprie scelte decisioni e azioni cosa leggere ce lo siamo detto tutto e tutti avrete i mercoledì bibliografici avete le bibliografie sul sito ma in ogni caso storie questo è molto importante senza bisogno di spiegarle senza bisogno che insegnino perché le storie insegnano di per sé ma se c'è un'etichetta sopra questa storia è per una cosa non la stiamo usando bene quella storia e quindi racconti romanzi graphic novel albi illustrati silent book molteplicità pluralità nel rispetto dei gusti senza pregiudizi e gerarchie e cercando naturalmente di tenersi aggiornati io non vedo purtroppo tutti i vostri commenti ma li leggerò con calma perché sto guardando le slide ma ogni tanto sbircio quindi cinque buoni motivi per love dare e ricevere trasmettere la nostra passione per la lettura educare educarci all'ascolto sentirci vivi e socialmente utili e creare legami che è quello che noi stiamo facendo stasera insieme tra i tanti strumenti che avrete avrete queste due pubblicazioni gratuite che rubricano proprio in maniera molto concreta e strumentale delle strategie e delle tecniche per leggere ad alta voce uno è in particolare per i bambini l'altro è per le ragazze e ragazze a scuola ma vi svello un segreto le tecniche per leggere alle ragazze e ragazzi sono poi quelle per leggere a tutti insomma qui ricordo ancora una volta le nostre project tutor regionali con i loro indirizzi e-mail per chi si trovasse appunto nelle regioni individuate e volesse mettersi in contatto per avere nuove informazioni e quindi insomma anche diventare parte dell'onda finalmente tolgo la condivisione dello schermo sono fiduciosa che ci risentiremo che ci riascolteremo sono fiduciosa di ascoltare la vostra voce oggi non ho potuto farlo solo voi mi avete fatto dono di ascoltare la mia concludo ringraziando voi non tanto per oggi ma per quello che farete dopo oggi e Silvia che è sempre con me e è sopra la mia canoa leggendovi un ultimo brano della nostra storia di oggi che ci ha guidato Vento del Nord che anche in questo caso non è scelta a caso è un augurio è una storia per voi Tiziana in Lombardia muoviamoci insieme ci sono dei circoli in Lombardia c'è un circolo Lava a Milano ma al di là del circolo se avete voglia di partecipare a questa rete anche se non siete in Piemonte anche se non siete in Puglia anche se non siete in Toscana anche se non siete in Veneto le quattro regioni servivano per marcare il nord sud ovest est e avviare l'onda ma adesso è tempo di montare in tanti sulla canoa la canoa è forte e quindi potete montare sopra concludo con la storia sogno il suo viaggio verso il nord era diventato un movimento attraverso molti mondi alcuni spietati persino letali altri buoni persino belli ora lei fece il suo ingresso in un tempo che sapeva avrebbe ricordato per il resto della sua vita dopo alcuni giorni lasciò la parete di ghiaccio programmando la partenza subito dopo la caduta in mare di un altro grosso pezzo di ghiaccio e si mosse veloce affondando la pagaia con forza nell'acqua per seguire svelto la corrente di rifluzzo lontanasi completamente dalle onde che sarebbero sopraggiunte a un'altra caduta a tuono di ghiaccio non vi fu nessuna onda e le condizioni atmosferiche che erano passate dalle pioggere sottili e sporadiche frequenti alle fitte nebbie divennero magnifiche il sole risplendeva sul lento sul seguirsi delle giornate asciugava ogni cosa lo riscaldava fin dentro le ossa mentre lui continuava a pagaiare per lunghi periodi seduto nella canoa assecondando il movimento dei flussi marini e lavorando ai bozzetti della sua storia quando la canoa seguiva la corrente incontrò una spiaggetta di ghiaia solcata da un ruscello e con della legna secca da artere e si fermò non c'erano escrementi d'orso era la prima cosa che cercava quando faceva sosta così allestì un campo pescò dieci salmoni nel ruscello e li affumicò era come se fosse di nuovo a casa ogni cosa sapeva di casa e con il fuoco la rastrelliera per affumicare il pesce le more che aveva trovato era una casa con tutte le comodità usò le lische e le teste del pesce per preparare una zuppa calda che condì con un po' d'acqua di mare poi si rilassò con un sonno profondo e intermittente a seguirlo adesso non c'erano solo i corvi ma anche gli sfasciatissimi gabbiani per questo doveva dormire a singhiozzo per tenere vivo il fumo quando dormiva però dormiva profondamente e sognava e fu durante quei lunghi momenti di riposo e di sonno profondo che lei ebbe chiaro perché si era messo a disegnare la sua storia all'inizio non l'aveva capito ci lavorava illustrava ciò che gli era capitato ciò che aveva visto cercava di farlo con le immagini ciò che aveva udito ma senza sapere esattamente perché per lui fosse diventato così importante documentare ogni cosa eppure era di vitale importanza lo era diventato in un modo che però non riusciva a comprendere e non smise di dedicarcisi di incidere la tavoletta quando aveva tempo mentre aspettava il cambio delle correnti seduto accanto al fuoco che faceva fumo e anche seduto nella canoa che andava alla deriva allo stesso tempo la sua vita onirica era intensissima aveva sempre sognato molto ma erano soprattutto brandelli di pensieri sogni privi di una logica ogni tanto però sin da bambino al porto sulle navi sognava sua madre era morta mettendolo al mondo perciò lui non ricordava o non credeva di averla mai vista ma la conosceva sapeva di lei era stato parte di lei per questo pensava in qualche modo di conoscerla di percepirla di sapere di sapere che lui veniva da lei che lei era dentro di lui solo che nei sogni non la vedeva mai in faccia magari era presa a parlare con altre persone ma sempre di spalle e la voce gli arrivava come un suono attutito i sogni sembravano veri così veri che lei si svegliava sempre convinto che sua madre fosse lì e che da sveglio sarebbe riuscito a spostarsi e vederla in faccia e quasi si metteva in piedi per andare a cercarla pensava che gli avrebbe sorriso non capiva perché avesse quella sensazione la sensazione che lei sorridesse ma si svegliava sempre con la convinzione che se l'avesse vista se fosse riuscito a parlarci lei avrebbe sorriso avrebbe sorriso a lui con un sorriso gentile un sorriso affabile con l'affetto negli occhi era nata così la tavoletta con la sua storia per trasformarsi poi in una tavoletta con i suoi sogni perché se i sogni potevano sembrare così veri ragionava lui tanto da dargli la sensazione che sua madre fosse vera allora erano veri per davvero esisteva un mondo dei sogni doveva esistere per forza e se quei sogni provenienti dal mondo dei sogni potevano arrivare nella sua vita anche quando era sveglio anche per un solo momento quando si svegliava era evidente che era ragionevole credere era ragionevole credere che poteva riportare nel mondo dei sogni la sua vita da sveglio la sua vita manifesta se si poteva andare in un senso allora si poteva andare anche nel senso inverso erano gli stessi pensieri che aveva fatto all'inizio del suo viaggio verso il nord quello che aveva chiamato la lunga traversata e per un certo periodo malato e in preda al delirio e alle allucinazioni aveva creduto di risprofondare in quello stato di tornare a pensarla così riguardo al mondo dei sogni poi però pensò che le persone in preda al delirio vedono cose immaginano cose come gli uomini del porto che si erano cotti il cervello con la birra e l'idromele ma non se ne rendono conto lui invece era consapevole o credeva di esserlo che rischiava di perdere il controllo dei pensieri della mente ed era dunque sensato c'era una strana logica nel pensare di non essere affatto in preda al delirio lui era l'elfe basta e se non era vittima delle allucinazioni allora c'era una possibilità che avesse ragione che una specie di mondo dei sogni esistesse veramente e se un posto del genere esisteva per davvero lui avrebbe potuto accedervi sapeva o pensava di sapere di non poterci andare veramente di non poter andare in quel mondo anche se sembrava vero nel momento in cui si svegliava ma era lì o lo considerava veramente lì e magari c'era anche il modo di avere informazioni su quel luogo sulla sua madre sogno e mentre si lasciava trasportare verso nord cavalcando le correnti oceaniche continuò a rimuginarci sopra finché non giunse a una soluzione o a quella che credeva potesse esserlo avrebbe reso la sua storia attuale o avrebbe fatto il possibile per riuscirci e prima di addormentarsi un vero sonno di quelli che si fanno la notte e non uno stato di dormiveglia avrebbe guardato quella storia perché fosse l'ultima cosa prima di prendere sogno se fosse riuscito a portarla nel sogno magari ci sarebbe andato vicino sempre nel sogno e anche se non fosse riuscito a vedere il volto i sorrisi e gli occhi buoni di sua madre forse lei sarebbe riuscita a vedere quella storia e magari un giorno se non si fosse arreso e ci fosse riuscito lei si sarebbe girata e lui l'avrebbe vista in faccia nel sogno per via di tutto ciò di tutte quelle riflessioni e domande la storia si fece ancora più importante e Leif ci si dedicò con impegno la perfezionò la levigò con la sabbia della riva la lucidò con l'olio di pesce finché non apparve come cuoio vecchio e splendidamente brunito una piccola parte di Leif era poco convinta che potesse funzionare ma la parte più grande di lui era convinta a non smettere di provarci e così ci lavorò ogni volta che poteva tornando a smussare affoggiare quelle parti che credeva andassero migliorate nel frattempo continuò a fare rotta verso nord tenendosi vicino alla riva tutto preso a remare a lasciarsi portare dalla corrente e a lavorare alla sua storia io leggo per gli altri voi siete l'onda lunga dei lettori ad alta voce grazie 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 grazie